E' stato approvato dal Genio Civile il progetto esecutivo per la realizzazione del ponte Petrusa grazie al quale finalmente sarà riattivato il collegamento tra Agrigento, la Statale 640 e la città di Favara. Da oggi dunque possono essere concretamente avviati i lavori per la realizzazione delle strutture del ponte già preceduti dalle opere di approntamento del cantiere. Sin dal mio insediamento ho riservato priorità assoluta allo snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'ufficio e in particolare all'approvazione di progetti importanti per il riscatto sociale ed economico del territorio agrigentino ha detto il nuovo capo del Genio Civile Rino Lamentola esprimendo la sua soddisfazione per l'intervenuta approvazione del progetto strutturale dei lavori per la ricostruzione del ponte Petrusa. La ricostruzione del ponte, aggiunge il capo del Genio Civile, traccerà un primo passo importante lungo un percorso per consentire alla città di Agrigento di uscire da quell'isolamento infrastrutturale determinato dalla demolizione dello stesso ponte di Contrada Petrusa a cui si è aggiunta nel tempo la chiusura al traffico del ponte Morandi e della galleria Spina Santa di collegamento con Raffadari. Proseguendo lungo questo percorso siamo già in contatto con i tecnici dell'ANAS per affrontare concretamente il tema del ponte Morandi dice ancora Rino Lamentola che costituisce un'importante arterie di collegamento della città di Agrigento con la parte occidentale del territorio provinciale sul tema a giorni potremmo essere più precisi. Un altro progetto che il Genio Civile intende portare avanti con forza in sinergia con il Dipartimento regionale tecnico è quello dello studio degli ipogei che attraversano il sottosuolo del centro storico della città dei Templi con l'obiettivo di individuare le zone che manifestano segni di dissesto e che sono pertanto da consolidare. Ciò potrebbe consentirci di mettere in sicurezza le costruzioni che sorgono sulle cavità del sottosuolo agrigentino e di riaprire, almeno per alcuni tratti, dice ancora Rino Lamentola gli stessi ipogei ai turisti, trasformando così un problema in una nuova risorsa che assieme ai tanti lavori che si realizzeranno presto per riqualificare gli spazi pubblici della città antica potrebbero attrarre i tanti turisti di transito che oggi visitano la valle e ripartono, che verrebbero così trasformati in turisti stanziali portatori di interessi economici diffusi fondamentali per l'economia agrigentina.